L'obiettivo è quello di creare dei piccoli shock continui. Per me fare la terapia deve essere un'esperienza unica e ripetibile che si portano dietro per tutta la vita. Non deve essere una chiacchiera normale. Deve essere una roba che va via e dice che cazzo mi ha detto questo. E quindi cerco di creare degli shock. Lo faccio per come mi viene in quel momento, ma cercando di spostare l'attenzione da una cosa a un'altra, tornando indietro, andando avanti anche temporalmente, usando tecniche diverse. Improvvisamente gli chiedo se gli va di fare l'ipnosi oppure torno sulle domande. Mi prendo la libertà di usare tutto quello che mi viene in mente senza stare dentro uno schema preciso perché mi sono accorto che mi irrigidisce troppo e quindi in alcune fasi della mia carriera di psicoterapeuta ho avuto dei momenti in cui mettevo in atto dei protocolli o degli schemi, delle robe. Però poi mi sono accorto che non sono io, non mi appartiene a me quella roba lì e quindi io devo fare quello che mi viene. Se mi viene e per come mi viene in quel momento lì. E quindi allora attingono a tutto. Può essere la musica, può essere la scrittura, il disegno, la pittura, il dirti che mi sto annoiando o qualsiasi altra cosa. Mi è capitato di fermarla personalmente, mi raccontava un fatto e di dire c'hai una bella voce, secondo me devi fare lo speaker radiofonico e questo fa lo speaker radiofonico. No, fantastico. Cioè gli hai indirizzo. Sì, io ho detto secondo me devi fare, c'è una voce bellissima e siamo stati un'ora a parlare di quello alla fine. Cioè non so, non mi ricordo neanche di cosa, qual era il problema che l'aveva portato lì. Però per me è questa psicoterapia. Fare questo, non solo seguire una procedura standardizzata. Quindi quello che tu fai è un iniziale lavoro di calibratura, di sintonizzazione con la persona per avere un'idea che poi puoi modificare, però ti dà un'idea iniziale e poi devi andare a rompergli degli schemi. Rompergli gli schemi, sì, o creare delle, non so come chiamarle, delle visioni, delle angolature diverse in cui guardare, ma in maniera, un po' come diceva Federico, però in maniera un po' scioccante. Sì esatto, un po' di rompente. E ho visto ad esempio che, come scrivo nel libro, le persone spesso stanno o nel passato o nel futuro. Chi ha paura pensa, ho paura che succederà qualcosa nel futuro, oppure il depressione che pensa al passato. Quindi già questa discriminante qui mi orienta un po' su dove andare a parare e cerco di spostarlo da lì. Se sei sul passato ti porto di là, se sei sul futuro ti porto di là. Cerco di fargli esperire qualcosa di diverso da quella che è la sua tendenza, come se fosse un vizio, come se lui avesse il vizio di stare nel passato. Allora per fargli vedere che può anche non stare solo lì, cerco di farglielo vedere, sentire in vari modi. Poi magari provo in un modo, vedo che non attacca, ne uso un altro. Non hai mai usato la parola tentate soluzioni, nel senso che non è più qualcosa che ti appartiene, non lo fai con la finalità di interrompere le tentate soluzioni sfunzionali, che è una cosa che in approccio strategico è principale, o lo fai? Lo faccio ma cerco di evitare di usare i termini che sono proprio di questo approccio. Ma non perché non riconosca a questo approccio la legittimità che ha, ma perché non credo che debba esistere un copyright nella psicoterapia e quindi penso che ognuno di noi possa inventare dei modelli, degli schemi, dare dei nomi diversi. Bernardo prima ha parlato del suo modo di categorizzare, non so se è un termine giusto, la persona che appartiene a un certo tipo di club ad esempio. Lui usa quella, io posso usare un'altra, qualcuno le può chiamare tentate soluzioni, ma per me non voglio uscire dall'idea di dover nominare o avere delle nomenclature troppo condivisibili, non mi interessa questo, mi interessa dare una pasta madre allo psicologo che possa poi lui decidere che tipo di pane fare con quel lievito. Quando rompi lo schema, riorienti la persona con una direzione in testa, quindi voglio farla andare lì, o lasci che si riorienti da sola? No, io credo che già l'interruzione dello schema porti inevitabilmente a una riorganizzazione che mediamente è migliorativa, poi non sempre è migliorativa, a volte è peggiorativa. Ovviamente sei attento a evitare che… E lì poi sì, ma magari anche nel peggioramento c'è poi un'utilità, come sappiamo, insomma le tecniche paradossali ci insegnano che anche nel peggioramento c'è il miglioramento e quindi si utilizza un po' tutto ericksonianamente e quindi creare lo shock produce comunque un cambiamento, produce comunque un'inevitabile procedura di modificazione di quello che è il sistema attuale e da lì poi spesso le persone fanno da sole, non c'è bisogno che te dai una direzione ben precisa, anche perché sennò sarei io che un po' presuntuosamente, è come se io decidessi dove deve andare questa persona, quando invece magari quella persona lì vuole andare da un'altra parte, oppure non è compito mio dire dove deve andare questa persona, io mi disinteresso completamente di alcuni aspetti della vita delle persone perché proprio non perché non mi interessa la persona, perché non è qualcosa che mi sta chiedendo e quindi in quel momento lì non mi interessa andare a scovare lì, a meno che non mi venga lì per lì il guizio di andare insieme in quel momento però a toccare alcune tematiche che possono poi a loro volta sviluppare nuovi progressi. Ho visto che stai anche facendo delle formazioni per esempio con Luca, con Gennaro, stai anche portando avanti quella parte, poi il libro che è un libro di self-help, stai anche portando avanti quella parte, la parte di aiutare le persone non con la terapia strettamente ma anche con la formazione. Sì, quello è un po' un mio grande contrasto, cioè da una parte sono molto attratto da quel mondo della formazione, del fare eventi in cui si parla di queste cose dall'altra parte ho una sorta di rifiuto, quindi vado molto a giornate, cioè c'è la giornata in cui sono preso bene, che ho voglia, sono felice, entusiasta, energico di farla, altre volte che non c'ho voglia per nulla e quindi anche lì, sai, il bipolarismo è una malattia grave. Non vanno curate tutte le malattie? No, infatti, basta saperci convivere in un certo modo. Io credo che onestamente la categoria degli psicologi, dico sempre un po' scherzando, ma fino a un certo punto siamo una categoria un po' di disagiati e quindi ognuno di noi ha evidentemente delle problematiche che l'hanno portato ad approfondire o entrare dentro, se non altro l'idea di scegliere di studiare queste cose perché chi te lo fa fare se ci pensi bene a 18 anni andare lì a studiare perché le persone stanno male, in che modo stanno male e quindi nel momento in cui fai un po' pace con questo discorso qua e inizi a utilizzare anche i tuoi disturbi a favore di quello che fai, tutto sommato diventa anche divertente. Fantastico. Ti chiedo l'ultima domanda che ho fatto a tutti, quindi la devo fare anche a te. Ti farai un sacco di altre domande in realtà, però anche qui ci sono i tempi. Immagina che dei colleghi ci ascoltano e tu gli vuoi suggerire un esercizio da fare nella vita quotidiana che gli possa essere utile per allenare un talento, una capacità o qualcosa che poi si porteranno nella psicoterapia, quindi gli sarà utile all'interno della psicoterapia. Credo che la cosa più importante in assoluto sia guardare le scarpe alle persone. Che cazzo ti ho fatto, ovvio no? E questa è la prima. Poi potrei suggerire altre due cose se posso, invece di una, è quella di passare almeno un giorno al mese senza parlare e quindi in mezzo alle persone, però non da soli. Quindi passare una giornata in giro guardando e esercitare così l'osservazione e quindi passare una giornata così a guardare gli altri senza, vai su un treno, vai, fai un viaggetto, un giro, vai in una città, in una piazza. È una cosa che hai fatto, peraltro, l'ho letta. La faccio spesso. Forse mi hai detto, l'ho letta. Sì, sì, la faccio spesso. Quando ho del tempo libero parto, vado e sto in silenzio, senza cellulare, senza niente e osservo le persone. Da lì puoi, a mio avviso, sviluppare la capacità osservativa necessaria per entrare in sintonia con le persone. Perché questo penso, e mi sembra di aver capito, che tutti abbiamo ripetuto e detto che è un elemento fondamentale. Ascoltare e osservare bene le persone nel nostro lavoro è fondamentale, a prescindere poi dall'approccio che usiamo. E quindi avere questa capacità di osservazione, anche ossessiva, se vogliamo, è un esercizio, a mio avviso, fondamentale per poter fare bene questo. Ok. E ce n'era un'altra? O mi ricordo male? Ma forse sì, ma me la so scordata. Ricordarsi le cose. Ok, Gerry, fantastico, fantastico. Grazie mille. Grazie a te. Abbraccione. Ragazzi, ragazzi, grazie mille. Io vi sono divertito un sacco, ho imparato un sacco di cose con Gerry, con Bernardo, con Jenna, con Federico. Spero che sia stato lo stesso per voi. Grazie veramente, perché sarà anche speciale, un po' emozionante, almeno per me farlo, fare questo davanti. Di solito siamo io, intervistato, Federica, tre telecamere e stop, invece a volte c'è anche Federica, c'è Skype. Quindi grazie, non vi devo vendere niente, quindi alla prossima, andate in pace e ciao. Grazie.